Originario di San Ferdinando, torna dopo esattamente 30 anni nella sua terra natia il colonnello Massimiliano Galasso alla guida del comando provinciale dei Carabinieri della BAT. Questa mattina un incontro con i giornalisti per presentare le sue linee di azione alla guida di un comando nato praticamente poco più di due anni fa e che, seppur già strutturato dopo la regenza del colonnello Andrei, deve ottimizzare al meglio le risorse per rispondere alla domanda costante di sicurezza in un territorio decisamente vivace sia da un punto di vista produttivo che è anche della criminalità. Ho trovato una provincia ridente, una provincia che ha voglia di lavorare, una provincia dove si tocca con mano quelle che sono le realtà produttive, naturalmente una provincia che ha bisogno di sicurezza, un bisogno di sicurezza che nasce dal dover garantire al cittadino la libera iniziativa economica, la sicurezza nelle proprie abituazioni, la sicurezza dei propri mezzi. Ho immediatamente colto la necessità e la richiesta dal suo strato sociale e quindi ci concentreremo immediatamente su quelle che sono le emergenze del territorio, quindi reati predatori e bisogno di sicurezza, naturalmente con un occhio e un'attenzione particolare a quelli che sono i settori di elezione dell'arma dei carabinieri, ambiente, salute, lavoro, non trascurando quelle che sono le forme più efficaci di criminalità organizzata che purtroppo infestano anche esse quest'aria. 45 anni, ultimo incarico a Reggio Calabria, il colonnello Galasso ha spiegato di aver resettato i precedenti incarichi per mettere a disposizione la sua esperienza nella sua terra. Ha ricordato anche il vicebrigadiere Salvo d'Acquisto nel giorno in cui ricorre l'ottantesimo anniversario della sua morte arrivata a Palidoro per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste. Ha voluto sottolineare anche la necessità di fare squadra come unica via per raggiungere importanti obiettivi. Ha parlato anche dell'organico a sua disposizione e cioè dei circa 400 carabinieri in servizio nella BAT. Quello che vi posso dire è che il mio dovere principale è l'ottimizzazione delle risorse. Molte volte il nascondersi dietro il fatto che gli organici siano insufficienti nasconde quelle che possono essere anche delle necessità invece di dover ottimizzare quello che si ha. Il mio primo compito è quello di far rendere al meglio i miei uomini e le mie donne, di motivarli, di metterli in condizioni, di esercitare il loro servizio sul territorio al meglio. Nel momento in cui ci dovessero essere delle necessità di rinforzo organico lo Stato non ha mai abbandonato nessun territorio, l'arma dei carabinieri ma anche meno, per cui sono convinto che riusciremo a fare quello che dobbiamo.